Musica Amici miei Ci risiamo amici miei Ci risiamo Siamo tornati con il computer di Wish Perché la speranza come al solito è l'ultima a morire Stiamo cercando di far resuscitare questo computer di Wish Che è nato con Windows 10 Home Tra l'altro potete acquistarlo su Wish Costa 80 euro Allo slot dell'SSD M2 Che non ha il MacBook Vi lascio tra l'altro anche qua sotto il mio codice sconto di Wish Non sto collaborando con Wish però Se voi volete comprare cazzate e cose varie C'è lo sconto del 50% Ho voluto seguire i vostri consigli Sotto nell'ultimo video di Wish In cui installavo Ubuntu Se non avete visto di che cosa stiamo parlando Guardate i video vecchi non ve lo ripeto Questo è un computer di Wish che dovrebbe funzionare E dovrebbe essere utilizzabile per il momento come tagliere Ho seguito alcuni consigli di alcuni esperti Che sono si sono palesati nei commenti E per questo io vi ringrazio Quello che mi avete fatto notare è che sono andato un attimo l'altro giorno nei requisiti di sistema Ubuntu ha come requisiti minimi 2 giga di RAM Questo computer ne ha 4 ma secondo me sono fake Come noi non possiamo utilizzare Ubuntu con i requisiti minimi consigliati in sto computer Infatti faceva schifo Mi avete detto che esistono altre versioni di Ubuntu Tra cui l'Ubuntu L'Ubuntu ha requisiti minimi davvero bassi Tipo 512 megabyte di RAM I consigliati sono 1 giga quindi dovremmo esserci 4 volte sopra 15 giga di spazio libero su disco Noi ne abbiamo 60-50 giga o cosa del genere E come processore un Pentium 4 Quindi stiamo parlando di un processore di circa 15 anni fa Se l'Ubuntu non dovesse funzionare in questa patacca Vuol dire che lo buttiamo dal balcone Andiamo a fare la chiavetta per l'Ubuntu E vediamo se worka stavolta Carichiamo l'Ubuntu Via Torrent che facciamo molto prima Ficchiamo la chiavetta nel mio computerone Formattiamo questa chiavetta E ci mettiamo dentro Ubuntu Avviamo Rufus Selezioniamo Ubuntu Apri Dopodiché avvia Ok ho fatto un piccolo errore Praticamente per fare la chiavetta per Ubuntu Bisogna usare Unit Boot In Con Rufus invece non funzionava Chiavetta del destino pronta Vediamo se worka Abbiamo creato la chiavetta in un'altra linea temporale Ok allora questa è l'ultima possibilità che ridiamo a sto computer Dobbiamo andare su nel BIOS Ok siamo nel BIOS Ok si è spento perfetto Questo non è un buon inizio Perché se non mi prende la chiavetta Questo computer è decisamente da buttare C'è un problema amici miei Non so perché non è come se non mi prendesse la mia chiavetta Grub Grub di che? Ma che è sto grub? Seconda chiavetta Credo che il problema fosse Che ho installato la versione di Ubuntu La 20. qualcosa E questo programma unit bot Non mi prende la 20 Oh ce l'ho fatta Qual era il problema? Adesso ve lo spiego Adesso finalmente mi vede la chiavetta Quindi dobbiamo andare a installare questa chiavetta qua La chiavetta che abbiamo messo Install l'Ubuntu Adesso ho lo schermo nero Non credo che sia un buon inizio Potrebbe essere un plot twist incredibile Amici miei C'è una schermata Potrebbe essere una vittoria Ci sono delle stelline E funziona già il mouse Holy shit Davvero incredibile Se solo dovesse ripartire E anche essere funzionale Per guardare non so un video su YouTube Fare una qualsiasi cosa sarebbe top Ma non cantiamo vittoria come l'altra volta troppo presto Perché l'altra volta ci hai riservato delle sorprese Andrea Galeazzi La Gava Il vostro nome Wild Pino Con Balena Etcher ho installato su questa chiavetta Il programma E funziona E me lo rileva finalmente il BIOS Praticamente ho perso un'ora e mezza della mia vita Cercando soluzioni su internet Per capire il perché la chiavetta non mi funziona Questa piccola manovra Ci costerà una cifra Una cifra molto particolare di anni Vediamo se indovinate qual è questa cifra esatta Tutto questo lo stiamo facendo senza corrente attaccata Questo potrebbe essere un problema L'altra volta questo cavolo lo è infilato Nello slot del jack delle cuffie Il computer non ha le ventole secondo voi Ma secondo me ha le ventole in realtà Secondo me due ventole ce l'ha Credo che l'aria come nei macbook Esca da qua sopra Infatti c'è dell'aria La parte che scalda è qui Divertiti con la tua musica e i tuoi video Ma qualcuno qui qualcosa mi sta tramando Puzza di bait Esecuzione della dark polo gang Quando inizia l'installazione della dark polo gang Vuol dire che ci siamo GG 3 2 1 premo enter Oh mio dio amici miei Forse l'abbiamo fatto risuscitare Fate si che questo computer ripa Amici miei Funziona Rispetto all'altra volta Ci funziona già il touchpad Vediamo se riusciamo a collegarci a internet Che non funziona E io come faccio a connettermi a internet Effettivamente questo computer senza internet è inutile Questo amici miei potrebbe essere Assolutamente non una vittoria Perché amici miei senza internet Diciamo che questo computer è inutilizzabile Sto impazzendo L'ubuntu Sull'ubuntu non funziona il wifi Non voglio perdere tempo L'altra volta su ubuntu normale funzionava il wifi E oggi non funziona più il wifi Non so perché Sto provando ad installare ubuntu mate Non ne capisco proprio no cazzo di niente Spero che non funziona il wifi Se no possiamo vedere Andrea Galeazzi Un sistema operativo più facile Non c'è stava Non posso scaricarmi il driver Perché non c'è manco l'attacco qua Di internet Al che Dobbiamo rifare l'ennesima chiavetta Vediamo se funziona Ora mi sparo Ora mi prendo le palle Me le trito E me le bevo Bot manager Vediamo se funziona E try ubuntu mate With that installing Nero Tutto nero Tutto fucking nero Questo coso qui Dovrebbe essere più pesante di ubuntu Però ragazzi Non mi trovo i driver L'altro Non esistono i driver Di questa scheda di rete E' un calvario ragazzi Installare ubuntu Cioè è davvero un calvario Credo che stia ceccando i dischi Cecca Cecca Il vero problema È che siamo in un circolo vizioso Lui mi chiede i driver Della scheda di rete Io non glieli posso dare Perché non mi posso connettere a internet Ed è tipo il serpente Che si morde da coda E nessuno può stare a questi driver Perché nessuno si può connettere a internet Questo è un problema amici miei Anche perché in ubuntu normale I driver c'erano Ma il problema di ubuntu normale Era che pesava troppo Vediamo se stavolta siamo più fortunati Funziona anche il mouse Funziona anche il touchpad Oh mio dio amici miei La reputo assolutamente una vittoria È arrivato il momento di fare il nostro test con Andrea Galeazzi Galeazzi Forse i corrieri sono tra quelle categorie che ci hanno salvati Che forse ci sanno Holy shit Non laga 1080p 50fps amici miei La fine di questo computer Dall'evoluzione e l'escalation dei prezzi Guarda che si possa scrivere e si possa fare qualcosa Proviamo a installare però appunto ubuntu mate Dopo ore Dopo tre ore di test Italiano È la soluzione Ce l'avevamo fatta Sta caricando qualcosa amici miei Forse è arrivato il momento che tutti stavamo aspettando Ovvero Andrea Galeazzi non lagga Allora cancella il disco E installa ubuntu mate Eccoci qua durante l'installazione Potremmo avercela fatta amici miei Finalmente Seguite i vostri consigli L'ubuntu Non mi piace Non funziona Non trovo i driver Questo tutto subito Wi-Fi Bluetooth Tutto afficcato subito dentro Ma perché installare l'ubuntu Perché C'è già tutto qui dentro Guardate amici miei Funziona anche il touchpad Finalmente il mio computer Sembra essere davvero Un computer che potrebbe funzionare Potrebbe essere utilizzato Non solo come tagliere Ma anche come computer Vero e proprio Due Uno Buon anno Rimuovi la chiavetta E premi invio Che succede? Funziona anche il Wi-Fi Si è acceso Linux mate Firefox YouTube Il punto di vista grafico È davvero figo Se andiamo a cercare Casualmente uno degli youtuber migliori Al mondo credo Mio Dio Ma sono io Prima vado ad aprire L'ultimo video Appunto quello del bicchiere D'acqua Che dovrebbe essere Abbastanza pesante Ragà ma stiamo scherzando? Non lagga Abbiamo fatto Resuscitare un computer Graficamente ragazzi Questo linux Mi piace molto Di più rispetto a prima Il monitor È 1920x1080 Infatti voi vedete Le icone piccoli C'è non si vede niente È tutto minuscolo Se il telefono Mi rileva il bluetooth Wildepino Earbook Ragazzi ma funziona tutto OnePlus 6 Ragazzi ma mi rileva tutto Ma è fighissimo Mi funziona tutto Facciamo tipo uno spam di cose Allora se Guarda non faccio taglie Guardate mi si apre tutto subito Peccato davvero Che non vada la 5 GHz Perché altrimenti avremo pure La gigabit su sto computer Ragazzi ma ha una risoluzione Incredibile sta cosa Se io dovesse aprire Repubblica ragazzi Repubblica Che è uno dei siti Più pesanti Che voi potete aprire Se vi ricordate L'altra volta Non mi si aprivano le immagini Qua tutto istantaneo Questo computer È utilizzabile Ultimo test però Vediamo In quanti secondi Si accende Il mio nuovo computer Di Wish Ho contato circa 45 secondi Una cosa del genere E fate conto Che non c'è nemmeno L'SSD Con l'SSD sarebbe una bomba Il mio nuovo computer Funziona finalmente Funziona anche Il touchpad Internet funziona Alla perfezione Mi apre i video di YouTube Alla perfezione Avessi però installato L'Ubuntu Sarebbe stato molto meno Meglio perché L'Ubuntu Richiede requisiti minimi E gira su processori Decisamente più scadenti Mate È una versione Diciamo intermedia Però devo dire Che questo computer Per il momento Regge molto bene Contentissimo Abbiamo praticamente Un computer Nuovo Questo solo Grazie a voi ragazzi Perché io pensavo Di doverlo buttare Subito dopo averlo provato Con Windows Ma non è così Amici miei Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Cliccate sulla campanella Per trasformare questo canale In una chiesa E noi ci vediamo In un prossimo video Woo Woo